Chioggia, guardate questa che bella, Chioggia arriva all'aerotaxi elettrico che trasporta il futuro, adesso ce l'hanno, guardate qua, che trasporta turisti senza pilota, il sindaco Armelau si chiama, ma che è greco? Un greco antico, Armelau, pensiamo al futuro, vi posso dire che io non vedo l'ora di prendere il taxi senza pilota, che tu sali e non parli con nessuno, lui si e ti porta io non lo so, io sono il tipo, io già faccio fatica a entrare nelle macchine normali, allora amici